we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate nel video parleremo tanto del fortnight mers perché oramai ci siamo manca una manciata di giorni in questi giorni arriverà la patch 14.40 con tutte le novità dedicate all'evento più brividoso di fortnite ma vedremo anche l'arrivo della nuova del nuovo evento sul party royale e tanti altri leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento ufficiale che arriva direttamente dai forum dedicati a fortnite queste sono le nuove cose che verranno fissate nella patch 14.40 come vedete ce ne sono davvero tante alcune importanti ve le leggo al volo quella della rissa squadre dove il loot viene mescolato ogni volta che si respona dovrebbe essere speriamo fissata riporteranno in game la bomba del doctor doom che tuttora è disabilitata così come dovrebbero riportare gli autotreni quindi camion grossi disponibili per tutti anch'essi sono disabilitati modifiche anche per salva al mondo dove ci sono ancora dei problemi di crash durante il caricamento di alcune missioni e per quanto riguarda anche la modalità creativa dove ci sono problemi con i colori del cielo che non cambiano e la nebbia e le luci che ancora danno appunto delle difficoltà quindi tanta tanta roba potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore la patch non abbiamo nessuna conferma e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla come vi anticipavo appunto del fortnite mers e sembra che arriverà un nuovo veicolo per un tempo limitato ovvero sia la scopa volante come vedete in questo post che vi sto pubblicando sembrerebbe che lo sto traducendo sembrerebbe che noi otterremo the brooms as mobility brooms sono appunto le scope volanti c'è un consumabile che si chiama w broom e poi c'è anche un loot boxes chiamato broom box il loot boxes sarebbe le scatole quelle ad esempio dove esce la frutta dove escono i funghi le banane il nocci di cocco non si capisce bene perché dovrebbe esserci anche un consumabile o meglio si capisce perché hanno aggiunto dei nuovi consumabili per un tempo limitato vi faccio vedere al volo una mini clip con un effetto audio e i consumabili di cui vi parlavo come avete sentito ragazzi era anche l'effetto del personaggio che mangia questi dolcetti presenti nei cestini di halloween e tra l'altro abbiamo altre due conferme the pumping rocket launcher will return questo è ovvio lo sapevamo il ritorno del lanciazucche non vedo l'ora di rivederlo anche per quest'anno e appunto come vi dicevo ci saranno le scope volanti che potranno essere utilizzate quindi tanta tanta roba ma andiamo avanti perché si parla della revenge of midas torna nuovamente uno dei protagonisti delle precedenti season di fortnite mida è stato in poche parole spoilerazzato nelle news in russia di fortnite io sono sempre convinto che in realtà non sia stato accidentalmente spoilerato ma sia una cosa voluta per creare hype fatto sta che la vendetta di mida dovrebbe essere questa mini storyline dedicata al fortnite mers appunto abbiamo la conferma che tornerà mida non sappiamo però se lui come lo conosciamo oppure in una variante tutta dedicata il che potrebbe essere anche una variante zombie vi ricordo che nel trailer si vedeva mida che scappava su una tavola di legno ma uno squalo che lo inseguiva quindi potrebbe anche non essere più vivo sappiamo ragazzi che in questa modalità che probabilmente non sarà una modalità ma farà parte integrante della storyline principale lo troveremo nel nel battle royale in base alle partite che faremo mida sarà un mini boss che avrà un golden scar oppure un piccone quindi lo troveremo con lo scar leggendario sappiamo anche che potrebbe avere 350 di shield e 100 di salute insieme a mida ci saranno degli scagnozzi speciali che saranno dedicati appunto al al tema di halloween e potrebbero essere trovati con uno shotgun una r il lancia zucche oppure con una mitraglietta abbiamo una bellissima immagine che più che altro credo un concept rispetto a quella che sarà l'originale fort ma fort nightmares revenge of the midas quindi qui addirittura si parla di tutto il fort nightmares concentrato appunto sul nostro mida e sappiamo anche che questo è un bellissimo concept che è stato fatto che potrebbe appunto avvicinarsi all'originale se così fosse sarebbe davvero spettacolare perché hanno ricreato un mida zombie che è veramente bellissimo da vedere e perché no magari anche da ottenere come skin tra l'altro abbiamo un altro concept che sono appunto i due scagnozzi o meglio lo scagnozzo che sarà vicino a midas per proteggerlo come vedete sono a tema spettrale e ci stanno tutti perché hanno assolutamente un bellissimo stile tra l'altro vi faccio vedere al volo che ci sono anche le animazioni dello scagnozzo con il lancia zucche due secondi di video questo è veramente molto interessante perché conferma appunto la teoria dell'arrivo della revenge of midas e degli scagnozzi e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché forse non lo sapete ma nel sito del party royale è stato aggiunto un nuovo evento che si svolgerà il 31 ottobre per noi in italia alle 3 del mattino e sappiamo ragazzi mysteriously the party royale website was updated with a new evented main stage simply title quindi è semplicemente stato chiamato con tre icone la nota musicale la zucca e il teschio sembrerebbe ragazzi che con questo evento chi lo guarderà otterrà la come le siete nelle seconde due righe owners who take part in the nightmare party on October 31 receive an exclusive J Balvin style quindi tanta roba anche perché sembrerebbe che arriverà una skin che invece dovrà essere shoppata che si chiamerà dance floor soldier e guardando poi l'evento se ne otterrà una variante insomma ragazzi anche per oggi tante le news su fortnite io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao